Il Vangelo di questa terza domenica di Pasqua ci riporta al giorno di Pasqua, esattamente alla sera di Pasqua. Cosa era successo durante il pomeriggio? Gesù si era fatto viandante, compagno di viaggio di due discepoli che stavano tornando a casa, pensierosi, preoccupati, discutevano. Le donne avevano detto che la tomba era vuota e che Gesù era risorto. Gesù si mostra, spezza il pane, si fa riconoscere e loro non riescono a stare fermi, non riescono a riposare, non riescono a rimandare a domani. Ripartono di nuovo 11 chilometri di ritorno a Gerusalemme. Voi pensate quando gli apostoli se li rivedono tornare, ma come siete appena andati via? Pensate con quale battito di cuore li hanno visti tornare e questi raccontano e mentre raccontano dice Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse. E allora leggiamo il Vangelo per comprendere ciò che è avvenuto quella sera di Pasqua. E cosa ci insegna questa pagina di Vangelo oggi a noi? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. Siamo al capitolo 24, versetti 35-48 In quel tempo i discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse pace a voi. Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore disse avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse sono queste le parole che io vi dissi quando era ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro così sta scritto. Il Cristo patirà e risorgerà dei morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Gesù si mostra vivo, vero e mostra i segni della passione e chiede anche di mangiare. Un fantasma non mangia. Gesù è vero. E uno può dire ma mostrami Gesù e io ti credo. Ecco noi non possiamo mostrare all'altro Gesù nel senso non posso dire all'altro che mi sta di fronte ecco Gesù sta accanto a me se Gesù non c'è. E allora che cosa posso mostrare all'altro? I frutti della risurrezione di Gesù in me, i frutti della mia fede, i frutti della mia vita visitata e rinnovata dal risorto. Voglio farvi un piccolo esempio. Voi tutti conoscete sicuramente San Massimiliano Maria Colbe. Egli a un certo punto si diede in scambio a un prigioniero e offrì la sua vita. Chi sei? Gli chiesero. Sono un sacerdote cattolico e faccio questo nel nome di Gesù. Ecco questo è un frutto. Gesù aveva dato la vita, lui dona la vita. Si dice che dopo questo fatto in Giappone aumentarono a dismisura le conversioni ai cristiani. E con noi tutti dobbiamo mostrare con la nostra vita il Cristo in cui abbiamo creduto. Poi Gesù dona una missione. Andate in tutto il mondo. Oggi questo è il nostro più grande rischio. Aver smesso l'evangelizzazione. Ecco perché le tenebre aumentano. Non perché ci sono uomini che fanno decisioni di morte, ma ci sono cristiani che non credono più nella vita e non annunciano più il Vangelo di Cristo. Io sto comodo nella mia sacristia? Sto comodo nella mia chiesetta? sto comodo a casa mia? Bene. Fino a quando io starò comodo ci sarà gente che avanzerà e con essa il male. Buona domenica a tutti.